E vediamo il Borgin, dai Gelindo! Dai Gelindo, dai Gelindo! Gelindo Borgin ha aumentato l'andatura, bravissimo Gelindo! Ecco vediamo che tenta un attacco Salé, aumenta il vantaggio, aumenta il vantaggio Salé, vediamo Gelindo che stringe i denti, dai Gelindo! Ha cavalcato, ha cavalcato Cagliuri, in questo momento dai Gelindo, dai Gelindo! Ha rallentato Salé, ha perso quattro secondi nell'ultimo chilometro Salé. E mentre guadagna terreno lo sta barraccando, lo sta barraccando, ora in prossimità si volge e a questo punto lascia in pazzo Salé a Bordini che si è portato in testa ed ora si sente esaltato da questa impresa. Gelindo Borgin che diventa un eroe, un eroe, un eroe dello sport italiano. Grazie a tutti! 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 Grazie per la visione!